Ben ritrovati con la nostra informazione. Torna come ogni anno la classifica di gradimento dei sindaci. Secondo il sondaggio realizzato per conto del quotidiano economico il Sole 24 Ore, Piero Fassino sfiora a Torino il podio. E' quarto, tre punti in più rispetto allo scorso anno. Fassino vince così la sfida tra i sindaci delle grandi città. Quattordicesima nella regione Sabauda, Silvia Marchionni eletta nel 2014 per il centro-sinistra alla guida di Verbania. Ultima tra i sindaci piemontesi invece Rita Rossa di Alessandria che è centesima. Sentiamo Roberto Monteriso. Ecco la speciale classifica sul gradimento degli amministratori stilata dall'Istituto Demoscopico IPR Marketing per il Sole 24 Ore. Nella Governance Pool 2015, così si chiama, gli otto sindaci del Piemonte si barcamenano tra alti e bassi. Piero Fassino risulta quarto assoluto, il più alto di tutti. Rita Rossa, sindaco di Alessandria, centesima, cioè penultima. Nelle grandi aree metropolitane si registrano sorprese ma anche conferme. Fassino con il 59,7% insieme al sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, sostenuto da liste civiche. E al quarto posto nel complesso il sindaco di Torino è anche l'unico in regione a crescere. Tre punti in più rispetto al giorno delle sue elezioni, 59,5% contro 57,2%. Fassino vince la sfida tra i sindaci delle grandi città davanti a Nardella, sindaco di Firenze, ottavo, e Pisapia, diciottesimo, primo cittadino di Milano. Secondo sindaco con più consenso in Piemonte, Silvia Marchionni, del centro-sinistra, che è detta nel 2014 al timone del Comune di Verbania, quattordicesima, con una percentuale del 58,7%. Seguono poi Maura Forte di Vercelli, trentatresimo, Marco Cavicchioli di Biella, trentottesimo, e a pari merito, già nella seconda metà della classifica, Federico Borgna e Fabrizio Brignolo, eletti rispettivamente a Cuneo e Dasti. A Novara Andrea Ballare è all'ottantottesimo posto con il 48,5% di consensi. Come accennato la performance peggiore, tocca a Rita Rossa centesima, ovvero penultimo posto. La prima cittadina PD di Alessandria è stata anche sfavorita da un bilancio in rosso del suo comune che l'ha costretta a varare una manovra pesante per i cittadini. La strage sulla A26, dove ad agosto 2011 l'imprenditore Ilirbeti di Alessandria uccise quattro giovani francesi, non sarà classificata come omicidio stradale. A giorni la Corte d'Appello deciderà sulla condanna per omicidio colposo e non volontario. Ilirbeti sta attualmente scontando una pena a 21 anni nel carcere di San Michele, dove sta studiando da geometra. Emma Camagna. Dopo quattro anni e quattro mesi di carcere, Ilirbeti, 39 anni imprenditore di origine albanese abitante ad Alessandria, che il 13 agosto 2011, guidando contro mano ubriaco un SUV sulla A26 vicino a Fredosa, piombò su una Opel Astra che portava cinque ragazzi francesi in vacanze in Slovenia, uccidendone quattro, spera in una riduzione della pena a 21 anni e quattro mesi, inflittagli dal gruppo di Alessandria, confermati in Appello ma bloccata dalla Cassazione. Il 20 gennaio i giudici torinesi devono rivalutare la vicenda e decidere se condannare l'imputato solo per omicidio colposo, sia pure multiplo. La pena in questo caso sarà inferiore di parecchio a quelli inflittagli invece per omicidio volontario. Una cosa comunque certa, anche quando il nuovo reato di omicidio stradale diventerà legge dopo il secondo passaggio in Senato, non si potrà applicare a Beti perché non si retroattiva una norma se è sfavorevole all'imputato e per lui è un bene. Beti fu incominato per omicidio volontario. Chi si mette alla guida in quelle condizioni accetta il rischio di fare una strage. Fu la tesi del PM Riccardo Ghio, accolta dalla Corte d'Assisne in processo inabbreviato. In Cassazione, Mario Boccassi e Franco Coppi, difensori dell'imputato, sostennero che non ci fu dolo. Proprio perché ubriaco, Beti non era in grado di rappresentarsi chiaramente la determinazione di uccidere. I familiari delle vittime hanno affidato a Facebook il loro dissenso e la loro rabbia. Vogliono la conferma di una pena esemplare. Giubbino nero, jeans, volto sereno, è apparso così questa mattina in tribunale ad Asti il magazziniere Pasqualino Folletto che deve rispondere dell'omicidio della tabaccaia Maria Luisa Fassi. Il dibattimento è stato rinviato al primo febbraio. Ma sentiamo Ketty Porceddu. E' stata rinviata il primo febbraio la seconda udienza del processo a carico di Pasqualino Folletto, il magazziniere 46enne che il 4 luglio dello scorso anno ha ucciso con 45 coltellate la tabaccaia Maria Luisa Fassi, da poco entrata nel suo esercizio commerciale. Nel corso del dibattimento che si svolge a porte chiuse nel tribunale di Asti, il giudice Alberto Giannone ha disposto a sorpresa una perizia psichiatrica richiesta tra l'altro dagli assistiti dell'uomo, gli avvocati Silvia Merlino e Stefano Romagnolo che si battono per stabilire l'infermità mentale di Folletto al momento dell'omicidio. La perizia verrà presa in carico dal professor Roberto Keller di Torino mentre procura e parte civile dovranno nominare i propri consulenti. La difesa invece si affiderà a Flavio Vischia, già suo consulente medico. Questa mattina Pasqualino Folletto è arrivato ad Asti dal carcere di Ivrea scortato dagli agenti di polizia penitenziaria che ne hanno impedito riprese e fotografie al fine di tutelarne la privacy. Ginse giubbino nero e apparso sereno. In aula non c'erano i familiari della Fassi che era sposata e aveva due figli. Dopo l'udienza del primo febbraio ci vorranno alcune settimane per permettere ai periti di svolgere le varie perizie e stabilire se è re o omicida. E re in sé quando la mattina del 4 luglio entrò nella tabaccheria di Via Volta ad Asti per una rapina finita poi in tragedia. È cominciato con alcune incombenze preliminari a Ivrea. Il processo invece per le malattie da Amianto alla Olivetti. Fra i 17 imputati figurano Carlo e Franco De Benedetti e l'ex ministro Corrado Passera. Telecom Italia è citata come responsabile civile. Al vaglio del tribunale ci sono 12 casi di morte e 2 di lesioni. L'udienza che si tiene nell'auditorium di un liceo si è aperta con la trattazione di un fascicolo stralcio che riguarda la posizione di un diciottesimo imputato. Sentiamo. 14 le vittime accertate e 17 le persone finite a giudizio per omicidio colposo in concorso e lesioni colpose. Sono tutti ex manager e dirigenti dell'azienda di Ivrea che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 2000 hanno ricoperto ruoli apicali all'interno della fabbrica. Ci sono tra gli altri anche Carlo e Franco De Benedetti, l'ex ministro Corrado Passera, l'attuale presidente di Piaggio, Roberto Colaninno accusato di lesioni colpose. Colaninno viene citato soltanto per un caso, quello di un ex dipendente tuttora in vita ma ammalato di mesotelioma pleurico. Il caso Amianto alla Olivetti è un dramma sociale. Lo ha scritto nelle sue motivazioni il giudice dell'udienza preliminare Cecilia Marino che ad ottobre aveva disposto il rinvio a giudizio di 17 imputati e stralciato la posizione di altre 11 persone, tutti ex consiglieri senza delega pur avendo ricoperto per anni quel ruolo all'interno della Olivetti. Anche all'Olivetti si poteva morire Damianto e il commento amaro di Federico Bellono, segretario provinciale della FIOMCGL, il sindacato che si è costituito parte civile nel processo. L'Olivetti sapeva dei rischi ai quali ha sottoposto per anni i lavoratori e ha agito con grave ritardo per porvi rimedio. E in estrema sintesi la posizione dell'accusa rappresentata dal PM Laura Longo. Prima di lei a portare avanti le indagini era stato Lorenzo Boscagli, il sostituto procuratore, che per anni ha lavorato al caso e che da maggio è PM a Prato. Indagini raccolte in oltre 36.000 pagine. All'interno c'è quasi mezzo secolo di storia della fabbrica, ricostruito attraverso i documenti contenuti nell'archivio storico Olivetti, gli organigrammi societari messi insieme, come un enorme puzzle dall'avvocato ed esperto in materia Giancarlo Guarini. E poi le testimonianze di ecchecupato, le più svariate mansioni negli stabilimenti e in quelle dei familiari delle vittime. Sarà su questa mole di documenti che accusa e difesa si daranno battaglia per stabilire la verità di fronte al giudice, il presidente della sezione penale, Elena Stoppini. Per il processo è già stato stabilito un calendario. Ci sarà un'udienza a settimana, da oggi fino al giorno della sentenza. In aula, e sto scelto l'auditorium del liceo Gramsci, a pochi passi dal pala giustizia per questione di spazio, ci saranno anche le parti civili che si sono costituite contro Telecom, società inglobata da Olivetti, e citata come responsabile civile. Sono i familiari delle vittime, il Comune di Ivrea, la città metropolitana, la FEBA, l'associazione che tutela le famiglie vittime dell'amianto, e la comunità collinare, le organizzazioni sindacali. Restiamo in tema amianto, che rimane un nodo centrale nella realizzazione del terzo valico ferroviario. L'incontro che avrebbe dovuto rivelarsi fondante per stilare il documento sul terzo valico si è risolto in un nulla di fatto, con un rallentamento quindi rispetto alle previsioni. La gran parte dei sindaci della provincia ha infatti in parte sollevato il piede dall'acceleratore. L'argomento sta portando anche una parziale dilatazione dei tempi dei cantieri dell'infrastruttura nella parte ligure, e in Liguria e in Piemonte le rispettive sedi ARPA hanno avuto il via libera per chiedere a Kociv controlli più approfonditi, e dal canto suo Kociv si è rivolto al Tar del Lazio. Tornando ai primi cittadini, il più deciso sul nodo amianto è il sindaco di Arquata Scrivia Paolo Spineto, che ha sottolineato la necessità di opporsi con un ricorso e l'utilità di affiancarsi a regione ARPA e ASL. Per Spineto il ricorso è l'azione migliore per concretare questa sinergia e ha definito come prioritaria e fondamentale la difesa dal punto di vista sanitario delle popolazioni interessate dalla nuova linea. Il sindaco si è detto disposto ad andare avanti anche in solitaria. Sul complesso tema si è voluto esprimere anche il movimento dei contrari all'opera, che sul suo spazio web afferma che il Ministero dell'Ambiente ha imposto al Kociv nuove regole di smaltimento del materiale contenente la fibra killer, Le analisi per i Notav non dovranno più riguardare solo la roccia setacciata, ma dovrà essere analizzato l'intero campione di roccia frantumata. Il movimento inoltre chiede di rinunciare all'opera considerati i rischi per la popolazione. Il terzo valico si conferma quindi fronte più caldo che mai. Tragedia nelle acque di una grotta svizzera. Il Sub Giancarlo Borgio, 39 anni, distrevi, non è infatti riemerso dopo essersi calato insieme ad altri due compagni d'avventura nella sorgente Bossi di Arogno, vicino a Lugano. Il fatto è accaduto l'altro giorno. Sono stati l'italiano e lo svizzero che erano con la vittima a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Una quarantina alle persone impegnate nella ricerca di Giancarlo Borgio, il cui corpo è stato recuperato intorno alle 20.45, a circa 70 metri di profondità. La sciagura si è verificata in una delle mete più frequentate dagli appassionati di spedeologia. È stata aperta un'inchiesta per chiarire i motivi della tragedia. Ultima pagina, cambiano le regole per i diritti di superficie e di compravendita sulle case popolari. La sentenza è della Corte di Cassazione da Ovada, Bruno Mattana. Sindaco Lantero, un consiglio comunale straordinario perché una sentenza della Cassazione è arrivata e dovete cambiare le regole per acquisire il diritto di superficie da parte degli inquilini delle case popolari. Certo, le case che in qualche modo sono state costruite negli anni Ottanta in convenzione con il Comune, quindi con delle situazioni vantaggiose. Da tempo ormai, lo sa la città, era stato fatto un percorso per poter cedere in totale proprietà il diritto che si chiama in termini tecnico diritto di superficie. Questa totale proprietà oggi è conclamata per quel che riguarda la proprietà, quindi effettivamente uno diventa il padrone di casa tutto tondo, ma una sentenza che ha un po' stravolto veramente anche le indicazioni degli ultimi anni e i comportamenti di tutti i comuni di questa nostra Italia ha cambiato le carte in tavola. Sostanzialmente ha sancito questa sentenza che la Cassazione è riunita, quindi una sentenza non più controvertibile che per entrare nel libero mercato e quindi per svincolare il prezzo vi è necessità di fare un ulteriore atto che va deliberato naturalmente dal Consiglio Comunale. Lo abbiamo fatto mercoledì sera e poi naturalmente ci sono gli atti di conseguenza della Giunta e gli atti necessari di svincolare questo prezzo. Quindi non più un solo atto come sino a settembre di questo anno, ma due atti. Uno che dà sostanzialmente in piena proprietà la casa a chi effettivamente la riscatta per quel poco che c'è ancora a riscattare e il secondo atto che permette a questi proprietari di vendere sul mercato libero a prezzo libero senza vincoli da parte del Comune lo stesso appartamento. Purtroppo la regola sostiene che questo svincolo non può non essere oneroso, quindi sulla scorta dovranno pagare di più un piccolo contributo ancora. Questo è un po' un momento strano della nostra Italia che legifera e poi spesso la Cassazione cambia le regole. Credo che bisognerebbe fare su questo una grande riflessione perché non è possibile governare con modifiche costanti delle regole. Non ne conosciamo la razio, dobbiamo applicare le regole. Tra i molti punti da sviluppare a Novi Ligure nel corso del 2016 c'è quello dedicato alla sicurezza della popolazione. Enrico Maria. L'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la pulizia della città e il suo abbellimento. Sono questi alcuni obiettivi prioritari che si pone l'amministrazione comunale di Novi Ligure guidata dal sindaco Rocchino Mulire. Tra i principali impegni che il Comune intende assumersi per il 2016 appena iniziato vi è quello della sicurezza. L'amministrazione comunale infatti, come ha affermato il primo cittadino, chiederà un ulteriore sforzo a tutte le forze dell'ordine per aumentare la presenza sul territorio. In particolare in alcuni punti critici come la stazione ferroviaria, Viale Saffi e il centro storico, cioè i due centri principali della Movida Novese. Un altro punto fondamentale per l'amministrazione riguarda poi il decoro della città. Da un lato la Giunta chiede ai cittadini maggiore responsabilità e collaborazione per tutelare i beni comuni. Dall'altro l'amministrazione si è impegnata a mettere in campo maggiori controlli e interventi sanzionatori per chi non rispetta le regole. Il 2016-19 è stato caratterizzato dagli interventi del post alluvione e da un lavoro della Giunta comunale nell'elaborare idee per il futuro. Il 2016 dovrà essere l'anno della concretizzazione dei progetti. Questa la volontà del Comune e della sua Giunta. E tra questi vi è anche un piccolo sogno personale del sindaco e vale a dire la costruzione di un nuovo parco giochi all'interno dell'asilo Garibaldi, quindi in pieno centro. Mugliere immagina una struttura innovativa, controllata, con orari di apertura e chiusura e soprattutto protetta dall'attacco dei vandali. Tra i problemi della Giunta vi è invece in prospettiva quello relativo alle risorse umane. Negli ultimi due anni sono andati in pensione 15 dipendenti ed altri pensionamenti sono previsti nel 2016. Ad oggi non ci sono spirali per reintegrare la pianta organica e questo fattore pesa negativamente, come ha confermato lo stesso Mugliere, sui servizi comunali, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione della città. Ed ora le ricette della minoranza di essere ovada per ridare splendore a questa cittadina, a tutti i buoni intenti nel servizio di Bruno Mattana. Pensandoci bene, approfondendo quello che propongono nell'ambito della minoranza consigliare, probabilmente non ci vorrebbe poi molto, a parte la volontà, per far ritornare ovada, una città dove si sarebbe orgogliosi di abitarci, lavorarci e viverci. A proporre in forma pubblica agli ovadesi, assieme alle auguri di fine anno, 5 formulette pensiero e desiderio, è stata essere ovada, che è la parte più sensibile al sociale, dove non appaiono interessi di parte tra le file e come forza trainante viene posto il bene comune. Cari cittadini, saremmo lieti, dice il capogruppo, il medico Mauro Rasore, se il 2016 portasse la politica ovadesa ad essere più attenta e utile alla vita sociale e comunitaria della città. Un auspicio che, tradotto in formulette pensiero, significherebbe arrivare all'obiettivo, facendo prevalere la volontà e l'intelligenza di farlo. Ed ecco, per essere ovada, cosa fare, mettendo in campo la partecipazione attiva e l'impegno sociale di tutti. Si parte dal Gerino. Vorremmo che diventasse davvero il polo di attrazione sportiva per il Basso Piemonte e la Liguria, senza più lotte intestine di piccoli campanili. Poi l'ostura. Vorremmo che fosse libero di scorrere nell'orba senza centrali elettriche di sorta o altre diavolerie. Poi la sanità. Che si investisse davvero su un pronto soccorso funzionale, sull'attuazione degli infermieri di distretto e di famiglia, su un centro funzionale di salute mentale, di neuropsichiatria, soprattutto se ci fosse più attenzione alle persone. Per il trasporto pubblico, ci fosse la condizione di certezza e di sviluppo, di continuità per tutti. Infine il teatro comunale. finalmente, dopo anni di chiusura, potesse riaprire le porte alla cittadinanza e alla cultura. Ripensandoci ancora bene, in fondo le formulette pensiero e desiderio di essere ovada non sono obiettivi irraggiungibili. Pensando ai cittadini come riferimento, per il capogruppo Mauro Vasore, si può provare a farlo. Una piazza intitolata Riccardo Garrone, indimenticato presidente della società petrolifera Erg, nonché presidente della Sampdoria, la vuole intitolare la comunità di Grondona il prossimo 21 gennaio all'imprenditore di Genova, che proprio a Grondona ci andava spesso e ci viveva. L'amministrazione comunale intende rendere così omaggio a un grande benefattore del paesino della Valle Spinti, che con la sua tempra e il suo operato ha aiutato a trovare lavoro molte persone e ha sempre avuto un occhio di riguardo per le nuove generazioni. Tra le iniziative degne di nota, organizzate dalla famiglia Garrone, ogni anno c'è proprio un campus per giovani che imparano a diventare imprenditori sull'Appennino. Sport nel campionato di Lega Pro di Serie C, il girone di andata si è chiuso nel gruppo A con due squadre al comando, l'Alessandria Calcio e il Cittadella. Nella pagina sportiva di questa sera sentiremo le interviste realizzate sabato scorso da Franco Capone ai protagonisti della gara Alessandria-Padova, finita in parità 1-1. Tra poco quindi servizio, poi meteo e notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.